Buongiorno, Davido, prima di iniziare con questo podcast di Tech News, vi voglio intanto ringraziare per i bei commenti di complimenti, di ringraziamenti che mi avete mandato sugli scorsi video, in particolare sul video di XZ, che insomma sono contento di come è venuto, sono contento un po' dell'analisi, degli studi che ho fatto su materiale scritto da altri, non ho prodotto niente di mio, però insomma ho cercato di fare un po' una sintesi e sono contento sia stata apprezzata anche il modo con cui l'ho narrato e quindi vi ringrazio a vostra volta degli ringraziamenti che mi avete fatto. Mi danno insomma tanta energia per continuare a fare queste robe quasi tutte le mattine, dai insomma un po' di mattine riesco a farle, quindi grazie e poi aggiungo anche un pochino di scuse perché intanto ho scoperto che YouTube non mi manda le notifiche di tutti i commenti, quindi un po' me le perdo, riesco a vederle solo se vado dentro, metto dei filtri particolari e me li fa vedere, non tutti tutti, però alcuni in più le riesco a recuperare, insomma però sicuramente il mio intento di rispondere a tutti i commenti sicuramente non sarà mai soddisfatto perché appunto alcuni proprio sfuggono materialmente, devi spulciare un po' di settaggi per riuscire a recuperarli, quindi ecco chi ha scritto un commento grazie e scusatemi se non riesco a rispondere perché proprio materialmente è difficile recuperarli e non arrivano notifiche spesso, quindi insomma va così. Mi scuso un pochino anche a chi ho risposto in modo un po' sarcastico, mi è sfuggita ieri una nota di sarcasmo in alcune risposte perché alcuni commenti diciamo erano un pochino sopra le righe, insomma un po' anche con una forma un pochino raffazzonata, insomma io ringrazio tutti i commenti che ricevo, sono contento che ci siano dei commenti anche molto argomentati, lunghi, cerco di leggerli tutti, vi chiedo magari di curare un pochino la forma, un po' di punteggiatura, un pochino di non scrivete in caps lock, insomma un pochino, mi piacerebbe che fosse una cosa piacevole da leggere anche per chi magari arriva su video, sul podcast dopo, si va a scorrere i commenti, magari delle cose piacevoli da leggere in una buona forma, poi magari il contenuto può pure essere strano e in alcuni commenti devo ammettere che è un po' strano, però cercherò di non rispondere in modo sarcastico mai, giuro, ci provo, a volte mi sfugge e mi chiedo scusa, cercate anche voi magari di curare un pochino le cose che scrivete, magari scrivetele, poi rileggetele e se vi sembrano un po' strane, magari cambiate qualcosina o non postatelo, non è obbligatorio postare qualcosa se vi suona un po' strano, però se ci tenete, ecco, mandatemelo, se non vi rispondo, potete contattarmi anche su LinkedIn e su Mastodon, magari potete scrivermi in privato se c'è qualcosa di cui volete discutere, io rispondo, cerco di rispondere ogni volta che posso, quindi se volete discutere di qualcosa, scrivetemi in privato, io sicuramente cerco di essere disponibile e quindi basta, volevo dire questo, ora vi do un paio di aggiornamenti, uno su una cosa che abbiamo già trattato la settimana scorsa e un altro su una issue di security abbastanza grave, ora la vediamo Allora, è il 9 aprile, quindi ho detto una fake news perché ho detto settimana scorsa, in realtà è qualche settimana fa la news a cui mi sto riferendo, cioè il cambio di licenza di Redis, non sto a spiegarvi di nuovo che cos'è Redis, come funziona, ma metterò un link da qualche parte qua a quella puntata in cui spiego anche un pochino che cos'è Redis e come funziona, che cos'è la licenza di Redis e che cambio hanno fatto, insomma, però per riassumere, sappiate che Redis ha cambiato la sua licenza Redis era un software totalmente open source, un database totalmente open source ed ora ha cambiato modello, ha cambiato licenza, è una licenza che non è considerata open source Quindi, come avevo già detto, la community, le community hanno risposto facendo un fork dell'ultima versione di Redis rimasta open source e vi avevo lasciato con l'assegnazione di un paio di forchi interessanti Uno dei quali si chiamava Placeholder KV, che naturalmente faceva presagire un futuro cambio di nome in qualcosa di definitivo Beh, il nome definitivo è arrivato e non solo quello, il nome definitivo è Valky, che è naturalmente un gioco che inverte la classica, no, Keyval Che Keyval è la definizione che si usa per questo tipo di database, un database key value, no, quindi Keyval, ora è diventato Valky, giusto per spiegare Sono molto didascalico, spero che vi apprezziate, comunque Valky è il nome di questo nuovo database, di questo nuovo progetto, che di fatto è Redis al 100%, è il fork dell'ultima versione open di Redis Ed è un progetto che è subito entrato a far parte del landscape, del panorama di progetti supportati da The Linux Foundation Eccolo qui, perché sta guardando, questo apparentemente è il logo di Valky, spero che insomma qualcosina cambi Non che Linux Foundation abbia un track record di loghi eccezionali, però insomma qualcosa di meglio che la scritta Valky in Arial forse si può fare Ma insomma, vado a prendere un po' di news così vi racconto che cosa è successo Insomma, si parla appunto dell'annuncio di questa fondazione, di questo fork open source di Redis Dopo che appunto Redis ha fatto questo cambio a licenze restrittive e non open source La versione 7.4 di Redis è quella che avrà questo cambio, che tra l'altro è una doppia licenza Una rimane con la Redis Source Available License, che è una licenza che Redis aveva già creato qualche anno fa E un'altra invece ha la SSPL, quindi la Server Side Public License Queste versioni, queste licenze insomma non sono open source Quelle più vecchie, quindi la versione precedente della 7.4, sono licenze open source Ora, Linux Foundation ha deciso di supportare questo nuovo progetto Chi è che ha lanciato questo nuovo progetto? Beh, intanto dei maintainer di Redis In particolare Madeleine Olson, che è Principal Engineer in AWS Che è quella che ha, diciamo, più sostenuto questa iniziativa, questo lancio E poi ci sono una serie di aziende che lo sostengono Una serie di cloud provider anche piuttosto interessate ad avere questo tipo di servizio Questo tipo di offering E questi sono AWS, quindi Amazon Web Services, Google Cloud e Oracle Poi si sa anche che al momento del lancio il progetto ha nove contributor Tra cui la stessa Olson e altri engineer di AWS E ha già 1.500 kit upstar Vabbè, questi numeri, numeri che fanno girare la testa Quindi stiamo parlando della versione 7.2.4 di Redis Vi dicevo l'ultima open source ancora E la licenza scelta per distribuire questo nuovo software È la BSD La Berkeley Software Distribution Che è una di quelle proprio più permissive in assoluto È proprio open source al massimo Permette di fare praticamente qualsiasi cosa Sappiamo anche un qualcosina della risposta di Redis In una mail del CEO di Redis Che è Rowan Trollop Una mail che ha scritto a The Newstack Qui sto prendendo un articolo da The Newstack Ha praticamente detto che sì Questo fork l'ha un po' respinto L'ha un po' Ha un po' gettato discredito Su questo fork Perché ha detto che fondamentalmente È l'idea di questi cloud provider Di non pagare nulla a Redis E continuare a distribuire questo prodotto gratuitamente Cioè gratuitamente Facendo pagare i propri utenti Ma utilizzandolo senza spese a loro volta Quindi fornendo il servizio Redis as a service O un fork di Redis as a service Senza pagare licenze a Redis Che invece lo ha creato E ha detto proprio Qui c'è una dichiarazione di Trollop I più grandi cloud service provider Beneficiano commercialmente da Redis Il progetto open source E quindi non mi sorprende Che abbiano lanciato questo fork All'interno della fondazione Insomma Questa è un po' naturalmente la difesa Della compagnia di Redis E ha inoltre aggiunto Che il cambio di licenza di Redis È stata una mossa Per avere degli accordi equi Con i cloud provider E a quanto pare L'unico che è arrivato ad un accordo con Redis È stato Microsoft Mentre invece AWS e GCP Hanno deciso appunto come detto Di sostenere questo fork Come poi aveva fatto Asci Corpo in precedenza Ci dice l'articolo Redis continua a sostenere Perché il suo impegno è per l'eccellenza Nell'enterprise Su The Stack Trovo anche qualche altra dichiarazione Per esempio quella del CTO Di The Linux Foundation Che il 27 marzo Ha detto che Valkey È creato da Maintainer e contributor Di Redis Da lungo tempo E avere questo progetto Proprio sotto il cappello Della fondazione Sotto la protezione Della fondazione Invece che un'azienda Di una singola compagnia Significa che Valkey Sarà un progetto community driven Quindi guidato Supportato dalla community E non potrà avere Dei cambi di licenza Così a sorpresa Che rompono la fiducia Della community Nell'open source Il VP di Engineering E Database Di Google Cloud Che è Andy Gutmans Ha scritto Ha detto Che vogliono continuare A supportare La community open source Nella prossima fase Di questo progetto E Colin Percival Che invece è di FreeBSD Del progetto FreeBSD Ha detto che per quanto Gli riguarda insomma Redis è stato rinominato Valkey Mentre Redis La compagnia L'azienda Ha creato un fork Non open source Insomma non free E non open source E insomma in maniera Che confonde parecchio Ha deciso di chiamarlo Redis Quindi questa è un po' Una battuta di Colin Percival Però insomma fa capire un po' Cosa alcuni membri Della community Pensano di questo Stato delle cose Ma non tutti sono d'accordo In realtà per esempio Kevin Swiber Che è uno sviluppatore Ha scritto su X Voi gente Spirito dell'open source Tra virgolette Dovete capire Che questo fork In realtà È guidato Da interessi corporativi E da una federazione Di interessi corporativi Loro Loro intendiamo Google e AWS Cercano di fare E Oracle anche naturalmente Cercano di fare soldi Cioè il loro obiettivo È fare soldi Non si curano di voi Non si curano dell'open source E questa è una delle classiche Diciamo argomentazioni Contro la Linux Foundation E contro le mosse Guidate da queste Da queste corporation Insomma Che note tra l'altro Includono nel novero Dei supporters Anche Ericsson E Snap In chiusura di articolo Si fa riferimento Anche alle mosse Di MongoDB E Elastic Entrambe erano passate Alla SSPL Non avevano avuto Grossi danni Al loro business Nell'immediato Però Sono business Molto diversi E anche che Girano in contesti diversi Rispetto a Redis Invece La mossa di Ashicorp Di recente Quella che Aveva naturalmente Cambiato la licenza Di Terraform E creato i presupposti Per il suo fork Open Tofu Fork open source Ecco Ha visto invece Insomma Una situazione parecchio diversa Ma comunque In tutti questi casi Non c'è stato Un supporto così grande Da parte degli hyperscaler Cioè da parte di Google Cloud E AWS E insomma Invece in questo caso Abbiamo visto Insomma Questo supporto Tra l'altro Immediato Che è arrivato subito E quindi Redis Nei prossimi mesi Dovrà affrontare Una competizione Piuttosto agguerrita Tra l'altro Se guardiamo nello statement Sul blog di AWS Open source Si vede proprio che AWS parla Del fatto che La Cambio di licenza Di Redis È stato anche un po' Un affronto Alla community Che in questi anni Ha contribuito A Redis Nonostante Redis Sia stato in primis Mantenuto E supportato Dalla azienda stessa E da impiegati Da dipendenti Dell'azienda stessa Ci sono molti Contributor esterni Che facevano parte Della community E insomma Cambiare licenza È una mossa Non rispettosa Nei confronti Di questi Contributor Quindi Redis Ha un po' Secondo il blog post Di AWS Rotto questa fiducia Con la community Mentre invece Facendo questo fork Spostandolo sotto L'egida Di Linux Foundation La community Rimane Comunque assicurata La fiducia Rimane assicurata E il tutto Rimarrà Un progetto Community driven Così come è successo Con Open Tofu Che qui è citato Proprio nel Nel blog post È successo con Open Tofu Che adesso Prosegue la legacy Di Terraform Però in un progetto Community driven Che tra l'altro Ha avuto una stable release A gennaio E quindi Sta crescendo rapidamente Avrà ulteriore espansione Nel prossimo futuro Tra l'altro AWS conferma Anche il suo commitment A supportare Valkyrie Nel futuro Nel lungo periodo E lo stanno già aggiungendo Alla loro offerta Di Elastic Cache E MemoryDB Che prima invece Giravano su Redis E poi chiudono Ricordando anche Quello che era successo Con Elastic Quando aveva cambiato La loro licenza Beh in quel caso AWS aveva forcato Aveva creato Supportato un fork Open Source Che si chiama Open Search Che è sotto licenza Apache 2.0 Beh come avete visto Da questo novero Di hyperscaler Che supportano Il fork Valkyrie Il fork di Redis Manca Microsoft E per Microsoft Ho trovato Uno statement Su The Register Un portavoce Di Microsoft Ha detto Che Microsoft Manterrà Una partnership Con Redis E continueranno A offrire Redis Sulle loro soluzioni Cloud Di Azure Cache E quindi Non cambieranno niente Fondamentalmente Rimarranno Con lo stesso servizio Per i loro clienti Con gli ultimi update E anche con gli update Futuri Questo nonostante La stessa Microsoft Abbia pubblicato Un blog post Presentando Garnet O Garnet Di nuovo Non lo so Comunque È un replacement Di fatto Per Redis Perché Nonostante Non sia un fork Di Redis Non funzioni Esattamente come Redis Però È pienamente compatibile Con il Redis Serialization protocol RESP Cioè in pratica Usando lo stesso Client Che comunica Con le API In formato Diciamo nel formato Di Redis Si riesce a comunicare Sia con un server Redis Che con un server Garnet Quindi basta Switchare l'applicazione Sostituire A Redis Questo prodotto Microsoft Che è un prodotto Open source Si chiama ripeto Garnet E il client Tendenzialmente Continuerà a funzionare Almeno per ora Quindi Nonostante Insomma Proseguono La partnership Con Redis Hanno anche presentato Quella che di fatto È un'alternativa È un'alternativa Open source Nell'articolo Si cita peraltro Il fatto che nel 2020 Redis Era il database Più popolare Su AWS E c'è anche Uno statement Di Peter Zaitsev Che è l'ex CEO Di Percona Che è Un'azienda Di consulenza Nel campo Dei database Open source E insomma Che ha parlato Positivamente Di questa scelta Di far ospitare Valchie Alla Linux Foundation Che la Linux Foundation Proprio è Secondo appunto Zaitsev È una fondazione Che supporta I progetti Community driven E proteggerà Redis Da futuri cambi Insomma Cambi di licenza Naturalmente Insomma Il tutto Rimarrà protetto Nell'ambito Dell'open source Vi dico inoltre In ultimo Sto andando lunghissimo Che c'è un altro fork Di Redis Di cui vi avevo parlato Che è Redict Questo fork Invece è stato creato Da Drew DeVolt E pur essendo Come va il key C'è un fork Della versione Redis Precedente Al suo Al suo cambio di licenza Però Segue degli approcci Un po' diversi Soprattutto degli approcci Un po' politici E infatti Nell'alluncio Della release C'è anche un po' Uno statement Che parla Della visione politica Di questo progetto Che si concentrerà Sulla stabilità E sul mantenimento A lungo termine Vede positivamente Il lancio Dell'altro fork Di Redis Che è Valkey E anzi Probabilmente Cercheranno di prendere Anche qualche novità Insomma Da un progetto open source Che rimarrà così aperto Quindi cercheranno Di integrare anche Novità portate su Valkey Però Sempre mantenendo come focus La stabilità Cioè non l'innovazione Ma la stabilità Del progetto E però Conclude anche Che Redict Ha una visione politica Che è diversa Da quel fork In particolare Perché pensano Che sia meglio Creare un progetto Supportato da una community Non guidata Da dei vendor Quindi naturalmente Da quelle che abbiamo detto Da AWS Google Eccetera Ma da una piccola community Che ne protegge Gli interessi E proprio per questo La licenza scelta Per questo fork È la LGPL La Lesser GNU General Public License Che è una licenza Molto permissima Ma che anche Protegge Questo fork E questo nuovo progetto Da sfruttamenti commerciali Chiusi Per la seconda di luce Cerco di andare un po' veloce Però è abbastanza critico A sapere di cosa si sta parlando Perché è stata scoperta Una vulnerabilità Piuttosto pesante Piuttosto critica Sui NAS Di Link Non su tutti I NAS di Link Su dei Dei device in particolare Che ora sono piuttosto vecchi Sono in end of life E questo È parte del problema Insomma Si parla di circa 92.000 device Che sono in giro per il mondo E sono esposti su internet Perché questa ricerca È stata fatta Con degli scanner Su web E sono vulnerabili A due CVE In particolare Quindi due vulnerabilità Una Ha un punteggio Di 9.8 su 10 Quindi è parecchio grave L'altra 7.3 È meno grave Ma è molto semplice Da sfruttare La prima È una vulnerabilità Che è insita Nel device stesso Perché è un Account Backdoor Inserito Arcodato Direttamente Nel firmware Del device Quindi dall'azienda stessa Da D-Link L'altro invece È una vulnerabilità Di tipo HTTP Cioè Passandogli un comando Semplicemente un comando Via HTTP In una GET È possibile Loggarsi sul device E da quel punto Eseguire del codice Vi ricordate quando parlavamo Torno sempre a XZ Del fatto che Essendo un progetto open source Qualcuno è riuscito A prenderne il controllo E a inserire una backdoor Che poi fortunatamente È stata scoperta E C'era un po' Una discussione Sul Closed source Versus open source Qualcuno Mi ha commentato anche Che nel software Closed Queste cose Non possono succedere Perché le compagnie Non hanno interessi A inserire delle backdoor Nel codice Perché devono mantenere alta La qualità del prodotto Beh Questa per esempio È esattamente La dimostrazione Che queste backdoor Invece vengono inserite Consapevolmente O inconsapevolmente Questa backdoor Non è altro che Un account Con privilegi altissimi Sul device Con una password Vuota O comunque Una password di test Che spesso Viene inserito nel device Senza essere riportato Nell'istruzione naturalmente E a cosa serve Questo tipo di accesso Può servire per esempio Per la compagnia stessa Per fare manutenzione Da remoto Quindi loggarsi sul device E comprare delle operazioni Anche all'insaputa Dei clienti Che hanno installato Questo device A volte però Può servire anche Per dare l'accesso A terzi Magari agenzie governative Magari a qualcuno Che sta facendo Delle investigazioni Ecco Questo tipo di backdoor Esiste Sono create Dalle aziende E sono inserite Nei device Nei device Che abbiamo Esposti su internet Insomma Quindi non è qualcuno Che ha preso controllo Del progetto E ha messo dentro qualcosa Per installare dei malware Ma sono le aziende stesse Che ci distribuiscono Dei software Che contengono Delle backdoor Quindi attenzione Usciamo dalla logica Del closed source È privo di backdoor Perché non è assolutamente vero E questo Ne è esattamente La prova Poi Se volete cercarle Insomma Cercate vulnerabilità Di link E trovate tutte le informazioni Trovate anche Qual è Insomma La chiamata HTTP specifica In realtà È una chiamata Molto semplice Che va A fare una get Su uno script CGI E gli passa L'utente La password Appunto Di backdoor Con un comando Base64 encoded Che poi Lo può fare eseguire C'è la lista Dei device Che sono oggetto Di questa Di questo backdoor Di questa vulnerabilità E sono tutti device In end of life Cosa vuol dire? Vuol dire che Di link Di link Non fa più update Non aggiorna più Questi device E non ci sono patch Che possono coprire Che possono sistemare Questa vulnerabilità L'unico modo Per farne a meno È sostituirli Cioè Buttare i vecchi Di nas Di link E sostituirli Con dei nuovi Questo è quello che Dice di link In realtà Ci sarebbe un'altra soluzione Cioè Non esporre Questi device Su internet Che tra l'altro È un consiglio Che bisogna dare Sempre a tutti In ogni momento Non esponete I nas Su internet Per l'amor di dio I nas Non vanno esposti Su internet O quantomeno Se li esponete Cercate di farlo Con tutti i crismi Del caso Con tutte le protezioni Del caso Disabilitate UPNP Mettete dei firewall Insomma Cercate di fare In modo che Da fuori Non si possano Raggiungere facilmente Questi device Ma ripeto La cosa migliore È non esporli Perché spesso Poi questi device Sono oggetti Di attacchi Di tipo ransomware Vengono crittati Fanno parte Magari sono device Di backup Che se Nel caso in cui Siano esposti su internet E vi siano compromesse Le macchine Se anche I nas Di backup Vengono compromessi Non avete più Neanche i backup Da ripristinare Insomma Non è una buona idea Esporli su internet Non bisognerebbe Farlo Questa insomma È la lezione Che possiamo trarre Da questa vulnerabilità Che peraltro È stata Insomma Ampiamente discussa Anche su Bleeping Computer Qua mi ero letto Un po' di cose Non ve le sto a riportare Perché Se no allunghiamo Troppo Ma insomma Questo era un po' Il succo Se avete Una delle 92.000 Device NAS D-Link Oggetti Di queste Vulnerabilità E lo scoprite Se andate a cercare Anche sul sito D-Link stesso Perché ci sono Degli Advisory Ecco Sostituiteli Con delle cose Più recenti Oppure Semplicemente Staccateli Da internet E utilizzateli Soltanto per il backup Locale Nella vostra rete Vi lascio infine Due link Il primo Si commenta da solo The Race To Replace Redis Insomma È un commento Di Joe Brockheimer A questa situazione Che abbiamo parlato Fino adesso Quindi dei fork Open source Di Redis Se vi va insomma Di leggere un po' E di approfondire Vi lascio questo link Ripeto The Race To Replace Redis Sul blog Di LWN Punto Net L'altro invece Link che vi lascio È un pochino più giocoso È il Doom Captcha Sapete cosa sono i captcha? No naturalmente Non ve lo so Spiegare Perché questo captcha È molto divertente È un captcha Basato su Doom Quindi se state guardando In questo momento Ecco per esempio Questo è il captcha Quindi qua c'è un form Con una email Questo captcha Dice Kill for enemies Quindi uccide 4 nemici Click to start Questo è basato su Doom Quindi se io Metto senza l'audio Vedete Devo sparare A 4 mostroni 4 demoni di Doom Quando l'ho fatto 4 Ho superato il captcha Ma ora ve lo farei sentire Anche con l'audio Vediamo Yes Insomma questo era quanto Grazie per avermi sentito Anche oggi Domani come detto Non ci sono Non c'è questo podcastino Perché sarò A Roma Binario F Panel Di CTO meeting Per Code Motion Spero insomma Però di riuscire a fare Qualcos'altro Nel corso di questa settimana Così darò ulteriori aggiornamenti Su qualcosa Perché alla fine Mi piace Mi diverto A fare questi contenuti Che spero che siano utili a tutti Quindi grazie di nuovo Ripeto Fatemi pure tutti i commenti Che volete Cerchate solo di mantenere Un pochino La forma Ecco corretta e leggibile Cercherò di rispondere a tutti E senza sarcasmo Promesso Grazie Ciao Ciao Grazie a tutti